Tutta densa di argomenti quella del Consiglio della Città Metropolitana Forentina che si è tenuto oggi e si è trattato di argomenti che riguardano molto da vicino il Valdarno Forentino sul fronte della viabilità. Ma andiamo per ordine perché sono molti i nodi da sciogliere nel Fondvalle, fra figline incisa. Intanto la rotatoria è davanti al casello A1. Da anni si attende alla realizzazione dell'opera che metterebbe in sicurezza l'incrocio pericoloso che dal casello si mette sulla regionale 69. Il Consiglio Metropolitano ha dato il via libera per la stipula di una convenzione con Società Autostrade in Regione Toscana per la Rotonda. L'opera dovrebbe essere realizzata entro poco, visto e considerato che il progetto è pronto da tempo. Altra spina nel fianco, la variantina di figline. Il terzo lotto è fermo da anni, dal 2011, a causa di un ricorso presentato da un privato. Per terminare la strada mancano solo poche centinaia di metri, dall'antistadio fino alla zona di Lagaccioni. Un atto di modifiche e di integrazione all'accordo di programma stipulato il 17 maggio 2007 tra Provincia di Firenze e Comune di Figline Valdarno, limitatamente al finanziamento e alla realizzazione della variante esterna all'abitato di Figline sulla strada regionale 69 del Valdarno, tra il ponte sul torrente Gagliana e la rotatoria in zona stadio, sarà firmato direttamente a nome del Sindaco Metropolitano senza dover passare dal voto del Consiglio. Con il privato è stato raggiunto un accordo da tempo, non ci dovrebbero essere quindi più impedimenti per terminare finalmente la strada. Nella proposta di atto del Sindaco Metropolitano si legge che il progetto definitivo per il terzo lotto è stato annullato e che è stata redatta una variante al progetto stesso che prevede il restringimento della carreggiata. Si rende opportuno, si legge nel documento della città metropolitana, un diretto coinvolgimento nella realizzazione dell'opera del Comune di Figline di Incisa Valdarno, trasferendo al medesimo il finanziamento concesso alla città metropolitana dalla Regione e affidando al Comune l'approvazione della suddetta variante al progetto definitivo e la redazione della progettazione esecutiva, il ruolo di stazione appaltante e la realizzazione dei lavori in oggetto, anche in considerazione del fatto che il Comune medesimo beneficia, a tutto l'esercizio finanziario 2018, dell'esenzione dai vincoli del patto di stabilità. Ancora non sono stati resi noti comunque i tempi. Il fatto comunque è che il terzo lotto della variantina è finanziato da tempo, con oltre 2 milioni e mezzo di euro. Adesso si dovrebbe trattare solo di formalità. Speriamo che sia la volta buona.